Il cammino della vita non è sempre facile, ma anche il momento della prova. Il cammino della siccità può rivelarsi tempo propizio per gesti di bontà e condivisione. La strada tracciata dai santi ci può offrire su un piatto d'oro atteggiamenti, situazioni, scelte di vita, incontri con persone importanti per noi. Ilia trova acqua per dissetarsi e poi dalla vedova, una povera, pane ed olio per saziarsi. Guida nel nostro viaggio è il Cristo, acqua viva che disseta nel profondo. Il pane dell'Eucaristia e l'olio dei sacramenti corroborano e danno forza al nostro andare in compagnia dei poveri. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. I corpi gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera. Egli beveva il torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a Elie e disse Egli si alzò e andò a Zaretta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. Elia la chiamò Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Per favore, prendimi anche un pezzo di pane. La vita del Signore e tuo Dio non ho nulla di costo. Ho solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'occio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio Dio. Dio, la mangeremo e poi moriremo. Non temere, tu fai come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché, dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà e l'occio dell'olio non si svuoterà, finché il Signore non farà piovere sulla terra. La vedova andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per mezzo di Elia. Voglio ascoltare ogni giorno la tua parola, parola che mi salva, che guida i miei passi, che mi raggiunge nel profondo. La tua parola, Signore, è l'acqua viva che mi disseta, il pane che non si esaurisce, l'olio che mi dà forza. Aiutami a camminare annunciando ai miei fratelli la tua parola, Parola che minaccia i potenti e chiunque da te sia lontana. Minaccia per amore, richiamando dagli abissi del male. Parola che soccorre il povero e chiunque è solo, perché non tema e non si stanchi di sperare. Parola che si fa pane, per sperare al mondo la bellezza suprema, il volto dell'amore, il tuo volto, Gesù. Parola che soccorre il povero e chiunque da te sia lontana. Miriamo giù le orne di via, percorrendo mali strette e deserti, introvisa ci appare a cavalle, con più e che sorrino in mezzo a me. E la sfida con i sacerdoti di Baal sul monte Carmelo. Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Ogni epoca ha i suoi idoli. Al tempo di Elia si chiamavano Baal e seducevano il popolo di Israele. allontanandolo da Dio. Gli idoli di oggi sono l'avere, l'apparire e il potere che si vincono con l'ascolto della parola, la fiducia in Dio e il servizio. Come Cristo durante le tentazioni nel deserto. La voce del vero Dio risuona nel nostro cuore quando lo apriamo alla verità. In realtà è nata per prima la prima canzone, Giorno del Carmelo. Una sera ero qui con le suole a commentare questo canto, loro avevano appena finito di cantare. Il suo cristiano dice, ci vorrebbe qualcosa su Elia, non abbiamo niente su Elia. Allora poi ho cominciato a pensare un po', a unire le varie tessere, coinvolgendo prima gli ultimi, gli altri, gli altri ancora. Allora è alla fine venuto fuori questo bel mosaico. Questo è uno dei miracoli che fa la Chiesa, cioè questa comunità di gente che guarda nella stessa direzione di Gesù. Vi grazie a tutti.